Per il grano duro di Puglia la produzione raccolta nel 2022 è stata più bassa da 10 anni a questa parte. 759.000 tonnellate a fronte di 1.273.000 del 2016, annata record e inferiore ai quantitativi del 2020. In ogni caso sempre in calo nell'ultimo triennio e inferiore a tutte le annate dal 2013 in avanti. I dati sono stati elaborati dall'osservatorio economico di CIA agricoltori italiani Puglia per dare anche un'evidenza statistiche e motivi che hanno spinto l'organizzazione a lanciare la campagna nazionale in favore dei produttori cerealicoli e dei consumatori italiani. Sono dati, dichiara Sicolo della CIA Puglia, che porteremo all'attenzione del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. 7.000 le aziende in Puglia in sofferenza. Ai dati evidenziati si aggiungono quelli messi in evidenza da Angelo Miano, presidente di CIA Capitanata. Per comprendere la misura del vero e proprio tracollo subito dalle quotazioni del grano duro negli ultimi 11 mesi, basta il confronto tra due dati. Il 29 giugno 2022, alla bossa merci di Foggia, il biologico era quotato 395 euro a tonnellata e toccava quota 580. Il 3 maggio le rispettive quotazioni sono state 375 e 350 euro a tonnellata. La petizione lanciata da CIA sta riportando l'attenzione su uno dei pilastri della sovranità alimentare. Occorre che l'Italia, in accordo con l'Europa, trovi una soluzione di questo tipo. In più, serve a tirare sistemi e meccanismi di granaio d'Italia. Tutto questo anche a maggiore tutela dei consumatori. Tutto questo anche a maggiore.